Stefano Cipollone, finalmente giunto a San Salvo dopo veramente un'impresa, una grande impresa, una bella impresa per un ragazzo come te. Si è partito da Martinsicuro il 29 in canoa e prima di allora si è partito da San Salvo il 24 giugno a piedi, 133 km fino a Martinsicuro a piedi, da lì 77 miglia nautiche, circa 73 miglia nautiche che si sono concluse sempre qui nel bellissimo porto di San Salvo. Come è stata Stefano? Dura, è stata dura. Eolo mi ha fatto compagnia per tutto il viaggio ma sempre in senso contrario. All'andata a piedi ho avuto 5 giorni di vento teso e contrario proveniente da nord, mentre al ritorno ho avuto una forte sciroccata quando mi trovavo ai pressi di Pescara. È stato molto difficile superare la focia del fiume Pescara, arrivare fino a Ortona, ci ho messo il triplo delle ore che ci volevano e anche quest'ultima giornata è stata abbastanza impegnativa. Però in generale questa fatica è stata ripagata dai bellissimi paesaggi, quindi spiagge, baie, dagli incontri che ho fatto con tantissime persone di tutte le parti d'Italia ma anche straniere e soprattutto questo bellissimo mare che caratterizza la nostra bellissima regione Abruzzo. Una fatica che quindi rifaresti? Assolutamente sì, però la prossima volta controllerei meglio le previsioni meteo, anche se quest'estate è un po' difficile azzeccarci con le condizioni meteomarine, però è una fatica ben ripagata dai panorami e dalle avventure vissute in questi 10 giorni di avventure, 5 a piedi e 5 in canoa. Tu hai già fatto altri cammini, il cammino di Santiago, il cammino di San Tommaso, questo nuovo in cammino, magari che tu puoi poi aver dato il via a un nuovo percorso? Assolutamente sì, infatti io ho camminato quasi esclusivamente lungo le spiagge e lungo l'extracciato della ferrovia, solamente in brevissimi tratti per attraversare i fiumi ho fatto dei pezzettini brevissimi di nazionale. Diciamo che il 99% di questo cammino, quindi questi 133 chilometri, i nostri svolti nelle spiagge e lungo l'extracciato, quindi quando finalmente tutto il tracciato sarà pronto, quindi la ciclo pedonale sarà fruibile a tutti quanti, sarà penso davvero molto bello e una grande opportunità turistica per tutta la regione. Il mio invito è verso tutti gli amici che mi hanno scritto e tutti coloro che si sono interessati a questo bellissimo cammino. Io vi invito a venire a scoprire la regione Abruzzo che ha delle bellissime montagne, delle bellissime colline e come in questo caso una bellissima costa, quindi coloro che volessero percorrere questi 133 chilometri è fattibile, non è difficile perché è quasi tutta pianeggiante, si può tranquillamente fare in cinque tappe, quindi vi invito a venire in Abruzzo a farla a piedi o se volete magari fare un'avventura un po' più ardua a farlo in canoa. Per qualsiasi informazione potete scrivermi, mi chiamo Stefano Cipollone, utilizzo i social su Facebook Viaggio Utopia Giro del Mondo Senza Limiti e su Instagram Viaggio Utopia. Scrivetemi, sono a vostra disposizione e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura ardua, in particolar modo la Lega Navale di sezione di Ortona che mi ha prestato questa canoa, la Una Samblas 4,30 metri, sono stati gentilissimi, poi ringrazio il mio massaggiatore Luca di Villamagna che nel giro di una settimana ha messo a posto tutto quello che c'era da mettere a posto, ringrazio mio amico Rocco D'Alessandro per aver collaborato a quest'idea e poi vorrei ringraziare Armando del Vecchio Teatro di Ortona che ci ha offerto questo bellissimo apericena, la Regione Abruzzo, il Comune di Ortona, tutti coloro che in questo cammino, in questa avventura via mare mi hanno offerto da dormire, da mangiare e mi hanno dato anche supporto nei momenti di difficoltà. Grazie a tutti! Grazie a tutti!